Prosegue la campagna vaccinale della Toscana contro il Covid-19. Il presidente della regione Eugenio Gianni ha annunciato che a partire da questa settimana le persone estremamente vulnerabili saranno vaccinate non solo con il siero moderna ma anche con quello prodotto da Pfizer. Sono inoltre in arrivo più di 136 mila dosi di vaccino di cui 115 mila consegnate da Pfizer, 9.900 da AstraZeneca e per la prima volta 11 mila anche da Johnson & Johnson. Le nuove forniture consentiranno di riaprire entro la settimana le agende per prenotare la vaccinazione delle persone di età compresa fra i 70 e i 79 anni. Per questa settimana noi abbiamo previsto la possibilità di vaccinare almeno metà di quelli che sono gli over 80 che mancano alla vaccinazione. Noi abbiamo oggi in Toscana un livello di circa il 70 per cento di vaccinazione degli anziani come prima dose naturalmente e su 320 mila over 80 noi abbiamo già vaccinato in prima dose 220 mila. Gli altri a metà saranno questa settimana e la prossima oltre a tutta una serie di vaccinazioni di richiamo che dobbiamo fare circa 24 mila proprio per vaccinazioni fatte precedentemente. La Toscana ha finora inoculato circa 900 mila dosi di vaccino e il presidente Gianni conta di completare la somministrazione della prima dose ai 320 mila ultraottantenni toscani entro il 25 aprile.